Musica In questa puntata Sanità, stati generali della salute Sport e salute, promozione dell'attività fisica Premio Architettura, i vincitori della terza edizione La risoluzione presentata dalla Commissione Sanità e demandata in aula dai consiglieri PD della stessa Commissione passa con 23 voti a favore e 15 voti contrari Respinti gli emendamenti della Lega e due proposte di risoluzione di Fratelli d'Italia decaduta la proposta di risoluzione alternativa della Lega Abbiamo avuto l'attestazione dal tavolo a Roma presso il Ministero di verifica dei dati che il bilancio 2021 su cui si sono sprecate pagine dei giornali interviste sul fatto che i conti non erano a posto e invece noi abbiamo l'attestazione senza nessuna diffida che la sanità toscana è sana e che ha chiuso con i conti giusti La sanità ha un problema anche di risorse economiche ma non è il problema più grave, ha un problema di struttura del sistema quando vediamo nelle stesse aziende ospedaliere Cisanello per fare un nome tre unità operative, tre primari, tre strutture di cardiologia e il problema è lì lì sono i gravi danni della sanità toscana perché si risponde non alle esigenze dei pazienti ma alle esigenze di tre amici che si devono nominare primari per poter avere tre clientele differenti è lì che c'è il male della sanità toscana è lì che ci sono gli sprechi quindi la sanità toscana ha bisogno di spendere bene i soldi non di spenderne di più perché se gli si dà più soldi non vorrei che Cisanello venisse fuori il quarto reparto di cardiologia che va a danno dei pazienti e a danno della toscana Tera via sostiene il documento degli stati generali della salute un lavoro buono di ascolto che ha portato a confrontare il consiglio regionale con tanti operatori del sistema sanitario per dimostrare che la riforma fatta nel 2015 è una riforma giusta fu molto combattuta io allora ero presidente della commissione sanità un lavoro straordinario che ha messo in sicurezza l'organizzazione del sistema sanitario toscano lo conferma ai vertici dei livelli nazionali come modalità organizzativa grazie anche ovviamente alla qualità dei propri operatori e professionisti ma soprattutto dimostra quando la politica fa scelte coraggiosi e diventano lungimiranti queste poi portano dei risultati positivi l'abbiamo visto sotto il covid adesso c'è da riorganizzare il sistema ulteriormente da migliorarlo rispetto alle risposte nuove che questa pandemia ha fatto emergere nello stesso tempo c'è una consapevolezza che le risorse servono e da lì c'è un tema che noi abbiamo sempre posto fosse stato per noi avremmo avuto anche le risorse del MES ci siamo concentrati sul tema della governance dopo dal 2015 c'è stata la riforma e quindi abbiamo rivalutato analizzando i dati come hanno funzionato le reti cliniche nell'ambito delle tre aziende sanitarie evidenziando però la necessità di rafforzare il territorio disponendo l'obbligatorietà della società della salute in ogni zona distretto della Toscana e rafforzando dal punto di vista personale e di risorse poi ovviamente la questione riguarda anche la non autosufficienza il tema della disabilità e l'emergenza urgenza dove bisogna omogeneizzare sostanzialmente il servizio in Toscana e poi tutto il tema della riorganizzazione del territorio che con il PNRR richiederà forse la sfida più importante dei prossimi anni più si previene quindi più si favoriscono anche forme di educazione stili di vita, consumi consapevoli meno si accede al servizio sanitario e questo deve essere l'obiettivo perché il servizio sanitario è comunque sia un costo per l'utenza è chiaro che ci sono altri aspetti poi la questione ad esempio delle aree interne noi abbiamo una Toscana che presenta forti differenze anche rispetto ai servizi sanitari è chiaro che di fronte a una popolazione che invecchia che quindi ha necessità di avere determinati servizi quanto più possibili di prossimità dall'altro però non possiamo anche pensare di sacrificare famiglie che molto spesso vivono in aree fuori dal territorio urbanizzato ma che molto spesso scontano ad esempio l'insufficienza di servizi pediatrici la nostra risoluzione che non ci viene permesso di presentarla viene eliminata perché dice è sovrapponibile all'altra ma si basa su degli architravi completamente diversi perché noi vogliamo tre anziché le tre asle vogliamo le asle provinciali noi vogliamo che il direttore generale non sia nominato dal presidente Gianni ma sia una concertazione con i territori quindi con i sindaci con le società della salute con la conferenza dei sindaci noi vogliamo che il CUP sia rivoluzionato perché ci devono essere due agende una di primo accesso che a un certo momento viene preso in carico dai reparti l'altra sarebbe un'accettazione da parte dei reparti quindi una volta che uno è dentro il sistema viene in qualche modo gestito dai reparti quindi non è più una lista di attesa ma è una programmazione a lungo termine a causa dei tagli lineari che sono stati fatti in molti settori coperti come razionalizzazioni hanno sofferto moltissimi settori della sanità la sanità territoriale le liste di attesa che invece avevano ricevuto un contributo dal governo con la ministra Grillo i posti letto che sono stati anche quelli tagliati insomma una sanità che se oggi soffre più del necessario e non è più all'altezza della Toscana Felix di un tempo è colpa anche di alcune scelte che sono state fatte in passato come quella delle maxiasle più volte criticate su cui mai e dico mai si è tornati indietro nemmeno in questa proposta di risoluzione ma nei vari punti che la maggioranza riconosce vi è quella del fatto che il governo nazionale negli ultimi dieci anni abbia sempre utilizzato la sanità come prima fonte di tagli non abbia sbloccato quell'imbuto formativo che non consente a chi completa il ciclo di studi in medicina ai giovani che si laureano in medicina di poter accedere alle specializzazioni perché mancano i medici specializzanti e specializzati non mancano i medici in generale in Toscana mancano i medici che si occupano di emergenza urgenza e mancano i medici specializzati quindi l'accusa è giusta c'è soltanto un piccolo cortocircuito sul quale abbiamo puntato il dito e che ci fa sì che non possiamo votare quel documento ci sono 800 mila persone in lista d'attesa ci sono 300 milioni di euro che devono essere ripianati sui bilanci della sanità le persone non riescono a fare a prenotare una visita e questi del Partito Democratico del centro-sinistra stanno ore a discutere per mettersi d'accordo fra di loro andiamo alle elezioni subito noi siamo pronti a farlo abbiamo dimostrato dove governiamo la scorsa tornata delle elezioni amministrative vinciamo i cittadini premiano il buon governo il Presidente Gianni venga in Consiglio regionale ponga la fiducia sul suo programma di governo noi siamo pronti ad andare alle elezioni il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità le nuove disposizioni per la promozione dell'attività fisica la legge varata introduce modifiche alla legge regionale 21 del 2015 ed è stata presentata dal Partito Democratico primo firmatario il consigliere Andrea Vannucci Sì, è una legge approvata all'unanimità lasciatemi sottolineare che questo è un aspetto che ovviamente mi riempie di soddisfazione è una legge che pone l'accento sulla promozione dell'attività fisica e sulla prevenzione come attraverso l'estensione di un modello che nella nostra regione ha di fatto inventato ha aperto la strada l'attività fisica adattata è ormai una realtà consolidata nelle nostre città e nei nostri territori l'obiettivo è quello di allargare la platea di allargare la platea dalla popolazione anziana alla popolazione che presenta delle fragilità legate evidentemente al tema della cronicità l'investimento in prevenzione è un investimento che ha anche un valore collettivo evidentemente il benessere di una persona si è raggiunto attraverso l'attuazione di politica come questa è un qualcosa che riverbera positivamente anche sulla collettività e sulla comunità di cui la persona fa parte io credo che questo sia un piccolo passo ma un piccolo passo nella giusta direzione questo è un allargamento a tutte le persone che vogliono fare attività fisica però non si parla né di impianti non si parla di progetti non si parla di niente per cui io la voterò noi la voteremo favorevolmente perché comunque si tratta di attività fisica è un primo passaggio aspettiamo poi dopo anche quello che succederà la Camera per dove questa modifica della legge per quanto riguarda addirittura lo sport è stata portata all'attenzione prima del Senato e poi della Camera insomma ci sono un po' delle cose che secondo me bisognerebbe più approfondire per quanto riguarda il mondo dello sport in generale perché credo che abbia una valenza e incida molto in quello che è l'attività e la vita di tutti noi cittadini lo sport fa parte di quelle attività di quella parte della vita umana che deve essere promossa perché oltre a essere un beneficio per la salute è anche un momento di comunità di socialità di cui abbiamo sentito molto la mancanza in questi due anni di pandemia la promozione dello sport quindi deve passare anch'essa attraverso tutti gli strumenti istituzionali che abbiamo a nostra disposizione e sarà un passaggio credo che dovrà essere maggiormente sottolineato anche quando arriverà la discussione della risoluzione sugli stati generali della salute l'attività fisica adattata riguarda un numero sempre crescente di persone perché è rivolta soprattutto alle persone con fragilità soprattutto anziani o con persone che sono a rischio di patologie è un'attività straordinaria perché oltre a promuovere l'attività fisica insegna anche i stili di vita all'approccio all'alimentazione all'affettività al buon uso dei medicinali quindi c'è tutto un mondo importante dietro a tutto questo che serve a mantenere in forma e a prevenire patologie quindi come dire come gruppo di Italia Viva noi ci siamo espressi immediatamente in modo favorevole c'è da dire però che c'è una serie ed un numero importante di persone di patologie che oggi non hanno accesso a questo tipo di attività e noi pensiamo per dire alle persone che sono state colpite da ictus o che sono colpite da alzheimer o che sono colpite da parkinson o che comunque hanno avuto degli incidenti e una volta finito il percorso di riabilitazione si trovano fuori diciamo dal mondo dell'attività fisica adattata è una materia sulla quale noi dobbiamo andare avanti dobbiamo continuare ad intervenire perché i numeri sono importanti ma soprattutto perché è giusto che questo sia penso per esempio alle piscine alle piscine è quasi impossibile poter accedere per queste persone soprattutto per le persone che hanno avuto ictus e che l'attività motoria in acqua dà tantissimi benefici perché gli spazi e tempi sono pochi anche le piscine le strutture che mettono a disposizione corsie vedono queste corsie ormai impegnate da tanti anni da chi è arrivato subito e che chiaramente non vuole smettere stanti benefici che questa attività produce dobbiamo quindi intervenire per cercare di dare sempre più spazio e quindi maggiori risposte a quelle persone che oggi ne avrebbero bisogno ma che diciamo per mancanza di possibilità fisica non riescono a fare attività noi abbiamo votato favorevolmente a questa proposta di legge che ha avuto un iter molto veloce in commissione proprio perché c'è stata un'animità fin dall'inizio della discussione riteniamo che lo sport possa essere sicuramente anche inteso in termini di migliorare lo stato di salute delle persone debba essere inteso anche appunto in questo senso e possa tante volte essere una prevenzione fondamentale rispetto a una serie di problematiche e criticità che se non affrontate in tempo potrebbero anche diventare gravi sapiente uso di materiali sostenibili e di alta qualità valorizzazione del dialogo tra architettura e paesaggio soluzioni architettoniche che restituiscono attraverso il linguaggio minimale la valenza civica dei luoghi la bellezza come elemento preordinante e altamente comunicativo i progetti vincitori della terza edizione del premio architettura toscana mostrano di aver saputo fare i conti con i tempi attuali e con una nuova concezione di abitare e fruizione degli spazi il premio il senso di questo premio è principalmente quello ovviamente di premiare le opere meritevoli ma molto della sua importanza è legata al fatto di negli anni creare una fotografia di quella che è lo stato dell'arte dell'architettura in Toscana capire quali sono le tendenze capire quali sono i pregi e capire quali sono i difetti e da lì partire possibilmente per compiere delle azioni e migliorarci è un'iniziativa che noi abbiamo voluto fortemente per tendere a unire tradizione e innovazione per sottolineare l'importanza della Toscana come terra che sa guardare al futuro con speranza ma che partendo dalla sua storia dalla bellezza della sua architettura dalla bellezza delle nostre città si possa però pensare di costruire ancora di più luoghi moderni che sappiano coniugare la sostenibilità di necessaria in questo tempo con la bellezza è un lavoro non semplice fatto insieme a tanti altri soggetti che ringrazio davvero tanto per l'impegno 140 opere presentate la voglia davvero non solo di competere ma anche di collaborare per costruire la Firenze e la Toscana del domani e la Toscana